Ben trovati carissimi MTIers, dopo le anticipazioni su Netflix è giunto il momento di Amazon Prime Video che per questo luglio ci regala due uscite veramente molto attese, scopriamo quali sono! Come sempre le nuove uscite non sono tantissime ma questa volta, soprattutto per i fan di anime e fantascienza potrebbero esserci delle belle sorprese, intanto però mi prendo qualche istante per segnalarvi che in questo mese usciranno da catalogo tutta la serie di The Burn Identity, i film Love Actually, Oblivion e pure Hot Fuzz e l'Alba dei Morti Dementi, soprattutto questi ultimi due vi consiglio di guardarli prima che lascino Amazon Prime Video, sono due perle con Simon Pegg e Nick Frost. Durante i Prime dei Amazon ha messo a disposizione a 99 centesimi al mese per tre mesi i suoi cataloghi video aggiuntivi bene, se vi siete abilitati stars, allora vi segnalo questo The Dresden Files si tratta di una serie basata su dei noti romanzi omonimi il nostro protagonista, Dresden, è un mago barra investigatore del paranormale che si mette a disposizione degli abitanti di Chicago, quelli che ovviamente pagano per risolvergli i problemi e dargli consigli ammetto di non aver letto i libri e che si tratta di una serie di soli 12 episodi datata 2007 ma se vi piace il genere un'occhiata la darei entriamo però direttamente nelle uscite comprese nel solo Prime Video con questo film tutto italiano, Blackout Love la nostra protagonista è un'allenatrice di una squadra femminile di pallavolo ma non troppo segretamente pure una collezionista di uomini che usa a suo piacimento e poi scarica quando si è stancata uno stile di vita che non evita di insegnare alle sue ragazze per renderle più forti e indipendenti qualcosa cambia nella sua vita quando incrocia nuovamente un uomo che l'ha distrutta anni prima e che l'ha resa quella che è. Il suo desiderio di vendetta la porterà in un alternarsi tra scenette comiche e frecciate graffianti non dovrebbe essere assolutamente dai risvolti romantici ma siamo in Italia e fidarsi è bene Un piccolo salto ad un comico grottesco come Jolt la protagonista Lindy è affetta da un rarissimo disturbo neurologico è normalmente ironica, divertente e simpatica oltre che molto bella visto che è interpretata da Kate Black in Sale ma ogni tanto viene colta da questa sua sindrome in cosa consiste questa malattia così debilitante? Ma in impulsi di rabbia omicida che può controllare solo teserandosi dire che sia complesso trovare un partner è poco ma alla fine ci riesce subito qualcuno che non è lei lo assassina la nostra Lindy piena di vendetta e probabilmente con molto altro represso parte sulle tracce del killer per vendicarsi spero la buttino in cacciara e sia senza pensieri Eccoci ad un film di fantascienza molto atteso La guerra di domani protagonista è Chris Pratt che abbandona per un attimo il ruolo da guardiano della galassia per diventare un combattente della terra del futuro La trama è quasi un classico dei paradossi temporali con alieni esseri umani dal futuro tornano indietro nel tempo per reclutare umani del passato alla faccia dei paradossi per andare a combattere contro una super razza aliena che è arrivata per distruggere il nostro pianettino e la sua stessa razza umana come se noi stessi non stessimo già facendo abbastanza a riguardo Comunque il nostro Pratt decide di andare nel 2051 per combattere e si troverà davanti alieni degni di un alien uscito da un dinosauro Sono abbastanza carico in attesa di questo film ma già dal trailer intravedo qualche debolezza nella trama quindi sto ridimensionando molto l'aspettativa però c'è Yvonne Strahovski che da sola merita la visione dovreste ricordarvela nella serie Chuck Finalmente è il momento dell'uscita più attesa del mese su Amazon mi riferisco a Demon Slayer Mugen Train di poco tempo fa la notizia della lavorazione della terza stagione e finalmente arriverà anche da noi la seconda di questo anime che ha distrutto tutti i rivali al botteghino di ottobre dello scorso anno in Giappone infatti questa seconda stagione è composta da un singolo solo film ambientato tutto su di un treno dove il nostro Tanjiro assieme agli altri cacciatori di demoni dovrà catturare un demone molto forte che ha già ucciso molti dei loro compagni non dico altro perché magari non avete visto pure la prima stagione ma le prime 26 puntate sono qui su Prime Video o su Forvid da recuperare assolutamente prima della visione di questo film se vi va io e Casolino per lo scorso Natale su Fantascientificast abbiamo fatto una puntata con un lungo approfondimento proprio su questo anime e nell'impatto che ha avuto nelle nuove generazioni prima di concludere una breve accenno all'ultimo film di Evangelion che completa la nuova tetralogia infatti è in attesa di uscire su Amazon Prime Video e alcune vocine parlano proprio di questo mese di luglio per le uscite dei più datati primi tre film questo che ho attualmente in mano è uscito addirittura nel 2007 ma non si esclude che pure il quarto che ha avuto appunto un parto di nove anni arrivi doppiato in italiano questo mese io ci spero proprio e non vedo l'ora di vederlo per chiudere questo arco e poter infamare ancora più giustamente quel troll di The Haki Anno ricordo comunque che la serie e i primi due film sono su Netflix voi intanto mettete mi piace, iscrivetevi al canale attivate la campanellina e commentate con le vostre aspettative o esternazioni post visione di quanto vi ho anticipato come sempre un grazie a tutti e noi ci si vede al prossimo video che dovrebbe riguardare proprio le uscite di Disney Plus in cui se ne vedranno delle belle ciao!